Ben ritrovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale e autostradale della Toscana. Sulla A1 per lavori fino al 28 febbraio è chiuso in direzione Bologna il tratto tra Aglio e Ronco Bilaccio. In direzione Bologna sono chiuse per lavori le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sulla A12 è chiuso per lavori fino a domani alle 20 lo svincolo di massa in entrata e in uscita in direzione Livorno. Sulla Fipili fino al 28 febbraio per lavori al viadotto Stagno chiusura della carreggiata all'altezza del chilometro 76 nel ramo di Livorno. Per il trasporto pubblico locale è in corso la sperimentazione tarifaria per l'abbonamento mensile integrato intermodale sulla tratta Ponta Sieve Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. altre info sui nostri canali social. Buon viaggio!